buongiorno oggi abbondiamo ma perché questo video poi avrei dovuto farlo per primo ma volevo aspettare di verificare con informazioni adesso le verificate allora prima di tutto quello che riguarda il rem non ci sono ancora le circolari per farò domanda ok però una cosa deve essere chiara non ci sono automatismi quindi non è che perché avete preso le rate vecchie prendete in automatico quelle nuove queste tre che entrano e soprattutto serve un ise in corso di validità cioè se non avete un ise ordinario o lisa corrente in corso di validità perché magari avete fatto per altri motivi dovete andare assolutamente a fare lise perché senza non potete accedere alla domanda la cosa riguarda sia i percettori che vogliono chiedere rem sia i quelli che vengono dalle proverganaspi che sapete che sono confluite nel rem andranno a prendere poco niente ma fa nulla per poter chiedere queste tre mensilità del rem dovete avere un ise in corso di validità se non ce l'avete andate a farlo subito non aspettate che esca la circolare per farlo perché perdereste il tempo perdereste un sacco di tempo e non si sa esattamente come andranno le cose qui dopo dopo pasqua perché potrebbero decidere altre cose va bene lo sapete non lo sto a dire perché non voglio che youtube si emozioni diciamo così seconda cosa sono stati sbloccati si può fare già una domanda per due bonus uno vi fregherà relativamente che vuole l'auto elettrica non penso che abbiate in mente di comprare un'auto elettrica il secondo è buono scultura e qui se avete dei figli nati dopo 2002 andate sul sul sito governativo apposito e però si accede solo con lo speed come in tutti i siti governativi ormai dall'ampala quello per il reddito così si accede solo con lo speed per cui se volete richiedere questo bonus di 500 euro per i vostri figli sappiate che dovete avere lo speed senza speed non potete fare la richiesta perché non si accede proprio fisicamente al sito per cui datevi una muovetevi velocemente perché anche questi sono soldi che servono soprattutto per in queste situazioni con il costo che hanno i figli in termini di studio l'ultima cosa scusatemi riguarda il fatto che i comuni non tutti alcuni l'hanno già fatto ma ci sono comuni in ritardo vuoi per motivi tecnici vuoi per altro in merito di buona spesa le procedure ormai si sono sbloccate anche nei comuni che erano in ritardo non avevano ancora fatto nulla non avevano ancora fatto uscire i bandi chiariamo subito due cose 1 questi qui non sono rifinanziamenti questi soldi qui arrivano ancora dal decreti di conte cioè di quelli di novembre quando si erano reistituiti buoni spese dei nostri rifinanziati quindi non c'è niente di nuovo e non sono soldi nuovi sono soldi vecchi non ancora spesi quindi non c'è nessuna non appartengono al decreto sostegno secondo la domanda dove prima di fare la domanda controllate sul sito del comune se hanno già pubblicati i bandi se vostro comune già già pubblicati ha già fatto tutto quanto non state lì a sbattervi ma se il costo comune non è ancora non ancora pubblicato il bando di accesso andate a controllare il primo al bando e verificate se rientrate nella nelle categorie che possono richiederli così non state lì a sbattervi per niente se rientrate ricordate che le procedure per le domande sono indicate nella nel bando del comune non è il reddito di santinanza non è un prerequisito per non accedere ci sono comuni che fanno accedere anche i percettori del reddito ci sono comuni che non fanno accedere i percettori del reddito perché la decisione su come gestire questi soldi è delegata totalmente al comune e non allo stato alle regioni in ogni comune fa storia se quindi non è che se anche la stessa regione se un comune fa una cosa il comune vicino può fare completamente diverso in maniera diversa tenete conto di questo e se avete dei dubbi dei problemi fatevi assistere o da un caf nella domanda oppure se ci sono perché sono in smart work per quello che sto facendo adesso perché stavo parlando proprio di loro fatevi assistere dagli assistenti sociali del comune in cui abitate per riuscire a gestire la domanda però se potete fatela perché in questa situazione qualsiasi aiuto serve io vi saluto mi scuso per tre video ma ho cercato di spezzettare le cose negli argomenti che possono interessarvi ciao a tutti ci sentiamo domani